Partiamo intanto da due considerazioni. La prima che faceva il presidente della Pescara, che ha anche detto il tecnico Colombo, le difficoltà che avete avuto per il terreno di gioco. La seconda è giocato per la prima volta, forse quest'anno l'avevi fatto in uno spezzone a Francavilla, dietro la punta centrale che in teoria è il tuo ruolo. Sì, sapevamo che il campo non ci aiutava a giocare. La partita sapevamo che era questa, dovevamo combattere, dovevamo lottare su ogni pallone. L'abbiamo fatto. Potevamo riuscire a gestire meglio qualche situazione per portare a casa i tre punti, però siamo fiduciosi e contenti per questa prestazione. Poi per il ruolo, sì, mi fa piacere aver giocato in un ruolo dove mi trovo molto bene. Mi trovo bene anche esterno, però qui dietro a Fago mi sono trovato bene. Speriamo di dare continuità. Se non ricordo male, avevi fatto il gol a Francavilla, appena entrato, proprio da seconda punta. Sì, sì, l'ultima volta avevo giocato a Francavilla, nel secondo tempo, come mezza punta, seconda punta, avevo fatto il gol. Sì, no, non mi trovo bene. Ora vogliamo riuscire a risolverci prima possibile. Chiedo un'ultima cosa, Gigi. Nella prima parte di campionato, quella del Pescara che era attaccata al Catanzaro, tra le cose belle c'era proprio la Gigi Cuppone che era immarcabile per gli avversari. Ora c'è un calo della squadra, ma c'è anche un calo tuo. Cosa manca per tornare a vedere quel Pescara e quel Cuppone? Dobbiamo lavorare sul campo durante la settimana e purtroppo i momenti durante le stagioni ci sono, però dobbiamo essere bravi ed è compito nostro essere bravi a sollevarci.